Ancora un'inchiesta della magistratura collegata alla sanità abruzzese. Avrebbero infatti fatto firmare alle cliniche private della nostra regione dei contratti di prestazione di assistenza ospedaliera collegando la firma al pagamento dei crediti che le cliniche avevano nei confronti della regione. Per questo Gianni Chiodi, ex presidente della regione Abruzzo ed ex commissario ad acta per la sanità, il sub commissario Giovanna Baraldi, l'ex assessore alla sanità Lanfranco Venturoni e due tecnici dell'Agenas sarebbero indagati dalla procura della Repubblica di Pescara. I magistrati che conducono l'inchiesta sono i PM di Florio e Bellelli che contestano agli accusati i reati di falso, violenza privata e abuso. I fatti imputati all'ex governatore, al sub commissario della sanità e all'ex assessore Venturoni decaduto nel 2010 dopo l'inchiesta sui rifiuti e ai due tecnici sarebbero da collegarsi al braccio di ferro della regione con le cliniche private per il raggiungimento dei tetti di spesa. Un obiettivo ottenuto dalla regione che l'ex presidente Gianni Chiodi ha sbandierato in campagna elettorale che ora invece potrebbe portare a guai giudiziari, tutti da provare e verificare. Secondo i magistrati, i contratti firmati dalle cliniche che hanno permesso di raggiungere il rientro dei conti nella sanità sarebbero infatti stati ottenuti ricorrendo a falsi abusi e violenze. Secondo la magistratura inquirente di Pescara le cliniche abruzzesi sarebbero state poste davanti ad un vero e proprio diktat firmare o non ricevere i soldi per le prestazioni sanitarie erogate nel 2010. Nelle prossime ore in Tassenso sono attese novità.